Cosa non va nel nuovo Codice degli Appalti? Allora, nel Codice degli Appalti sono tante le cose da dover approfondire. Noi lo stiamo studiando meglio anche perché è una situazione molto complessa. Anche a livello legislativo ci sono tante tante conflittualità da chiarire e da portare avanti meglio. Quindi noi abbiamo come Consiglio, abbiamo cooperato un po' tutti, proprio per approfondire certi aspetti. E uno degli aspetti che maggiormente ci preoccupa è quello dell'appalto integrato. Noi anche col Comune di Teramo avevamo proposto una piattaforma per i concorsi perché riteniamo fondamentale l'applicazione dei concorsi che possano migliorare proprio, diciamo, anche la qualità architettonica di ogni città perché noi sappiamo che ogni intervento, anche il minimo intervento edilizio che si fa in un territorio, avrà le sue conseguenze. Condiziona la vita dei cittadini perché l'architettura è un evento sociale e quindi è necessario che si riveda bene un po' il discorso del codice degli appalti. Premesso che il codice degli appalti è un testo normativo molto complesso per cui capirne gli effetti adesso è difficile. Però abbiamo rilevato sicuramente la volontà da parte del legislatore di introdurre tutta una serie di istituti, tra cui l'appalto integrato, il general contractor, l'inalzamento delle soglie per l'affidamento diretto degli incarichi che sono finalizzate esclusivamente a diminuire le tempistiche di appalto, quindi a eliminare un po' di burocrazia, il che di per sé va bene, quindi l'intento è nobile. Quello che però secondo noi non va bene è che questi istituti in qualche modo vanno a minare la qualità del progetto perché per esempio con l'appalto integrato, come diceva il Presidente, è la stessa impresa che esegue l'opera e l'appalta. Con l'affidamento diretto, per esempio, nel caso dei servizi di progettazione, viene scelto il progettista. Quindi il ricorso ai concorsi di progettazione è stato limitato. Questo non va bene a nostro giudizio perché con il concorso c'è la possibilità di confrontare più soluzioni progettuali e di sceglierne la migliore. Con l'affidamento diretto si sceglie il progettista, secondo dei requisiti che tra l'altro spesso sono di carattere aziendale, quindi in base al fatturato, all'esperienza progressa. Questo secondo noi non va bene perché limita fortemente l'inclusività dei giovani, dei professionisti di talento e in qualche modo va a monopolizzare questo mercato. L'impresa dà in subappalto, il subappaltatore a sua volta può dare all'infinito l'opera da subappaltare. Quindi anche questo creerà sicuramente tante difficoltà, anche dei contenziosi. Tu che ne pensi, Luigi? No, assolutamente. Questo è l'unico problema che abbiamo e che stiamo cominciando a verificare anche in virtù dei super bonus. Quello che ci preoccupava veramente saranno le migliaia di problematiche che usciranno fuori per i contratti fatti con il super bonus. Ci stiamo anche preparando anche come commissione parcelle perché siamo un po' preoccupati anche dalla moglie di lavoro fatta, da quelli che sono i lavori non compiuti. Ci sono tantissimi lavori non compiuti, non portati a termine perché le cessioni sono ferme e siamo preoccupati perché questo porterà ritardi nell'assegnazione dei lavori, ritardi nel competimento siamo veramente preoccupati non solo per i nostri lavori ma anche per quelli delle imprese che versano in gravi situazioni, non sanno come gestire le cessioni quindi bisogna anche cercare delle soluzioni in tempi immediati.